In noto desconossi che la compagnia aerea tiara era a assumere un problema di liquidezza in ultimo lunano. Tore sacchi debbino a differente tardanza del pago del Departamento di Administrazione di Divisa di Venezuela. Después di sinta, la Mesa con l'Ejecutivo del gobierno venezolano ha lograto un pago di un sumo aceptable con una reduzione di 25-30% di un sumo total. Nel giugno del 2014, ambos partidei llegano a un arreglo di pago e a transferire promedio 5 pago nel mese luna. Il sumo riduzzo lo che da pagare cada semestre, e sta cada 6 sui uno. Il director di tiara era calcolato che per januari del 2005 e di 2 pago l'adrenta. Questa parte qui non si paga il salario di giugno e di giugno, e non si paga il 300% di avione. Il tempo è parato di mantenimento, e non sta preparando una ora qui. Il giugno sta planificando per trenpiloto, tripulazione di cabina, eccetera. E per reactivare la operazione, mi sta calcolato per 3 settimane di agosto, fin di agosto. Si sono state di agosto. Actualmente tiara era chiamata per il sospensione di pago. Cuali si era chiamata per il sospensione di battaglia. Cuali si era vallato il 26 de ottobre 2005. Per me è che sei si noi ci stava accerciando il credito. Cosa ci stava accerciando per il credito. Cuali ci stava accerciando per il credito. non lo ha ai di Venezuelo, non lo paga la creditora. Recientemente Tiara Air ha notificato la comunità di Aruba che compagnia l'olantica BizPack. Come un Tiara Air nuovo, uno restructurato. Abbiamo un gruppo di 130 empleati e abbiamo un gruppo di 60 empleati. Quindi 60 empleati hanno ricevuto il salario di Juni, hanno ricevuto il salario di Juli, e questo gruppo è continuato in Tiara. E quando si lo operi, di un size più piccolo. Una situazione faciosa, in verità, che non può descartare che c'è un gruppo grande di extranjatori di Tiara Air che non ha ricevuto il salario. Il salario non è pendente, non sta lavorando con un plan di pago e non si lo va ai complicare, ma ne conoscere. Quando mi ha calcolato, ho cominciato a pagare circa il fine dell'anno, portare poco pro me. Per quello che ti ha fatto, Tiara Air è una ruta attuale non riduce, comparando con il inizio di Tiara Air nel 2006. Il direttore di Tiara Air explica più rivezati e adattazione come se la toma il luogo. Tiara ha fatto una ruta fino a punto fijo. Questa è una ruta basta di mandare per rubiare un'attacco con il lavoro per diversi razone, incluendo razone medico, etnico, etc. Per noi stiamo lavorando con noi mesi un'avion e il buono non sta lavorando legalmente operare da un'altra aeroligna con il Tiara Air a Charter e che non è un modo di che che tiara era un'charter come un'charter avion e non sta lavorando operare da un'altra aeroligna Mentre non sta lavorando con noi mesi un'avion e non sta lavorando con il Tiara Air con il nostro avion Il avion in Tiara è un'attacco di un'attacco di preservazione in cui non sta ricevendo mantenzione e cuido necessario Noi abbiamo quasi 80% dei nostri entrati in Venezuela quindi un'irrigualità assinata ha afectato a noi grandemente L'oggettale ora che ci siamo concentrati quando ci siamo arrivati 6 anni passi, 8 anni passi ci siamo concentrati nella isla del Carribe con il Corso e il Bonero Nostra mirata è un'attacco di necessità e ci siamo concentrati nella e ci siamo concentrati nella operazione con il Shortzone In Colombia, in Riohacha non ci siamo arrivati nel Dezembro però non sta confermare e ci siamo concentrati nella isla e ci siamo concentrati nella isla non ci siamo mantenuti nel punto fijo Caracas con Maracaibo ho paura che il minuto che era non ci siamo arrivati ma questa è un'attacco costa cambia costantemente se ci siamo arrivati a un certo accordo con Venezuela ho avuto una migliore vista con Kiko per garantire che il flugno di dollari è più consistente non ci siamo arrivati ma ci siamo arrivati a un punto fijo e ci siamo arrivati a concentrare nel Corso e il Bonero Buona notizia di oggi Roseanne Deweyver Apesar di tutti i fattori che non poteva premire nel tempo il direttore di Tiara è di applaudire il lavoratore e anche il lavoratore che deve dimostrare loyalità nella compagnia il direttore di Tiara è di convincere che la compagnia l'Ollantia arriva su due spiena